È stato presentato presso l'azienda Neri un progetto, si chiama Bircaccio, vale a dire utilizzare gli scarti della lavorazione della birra, infatti l'azienda Neri possiede un micro birrificio per l'alimentazione delle pecore dal latte e quindi trasformare il latte poi in formaggio grazie all'azienda Saba. Un progetto pilota, un progetto per ridurre di sprechi assolutamente, in azienda la birra comunque ha molti scarti e la necessità di poterli riutilizzare è sicuramente un passo verso il futuro e un miglioramento nelle emissioni di CO2 per tutto il pianeta. Che cosa significa per l'azienda Saba il progetto Bircaccio? L'ennesima sfida che sicuramente vinceremo e quindi è importante perché le aziende sono anche innovative e questo è un progetto innovativo, è un'economia circolare e speriamo di riuscire a raggiungere l'obiettivo e che poi dopo sia anche spendibile a livello anche commerciale ovviamente. Progetto finanziato con i fondi del PSR e da un bando del GAL Farmaremma. Il Farmaremma ha creduto in questo progetto, è la misura 16-2 che mira proprio all'innovazione quindi dei processi e dei prodotti all'interno delle aziende agricole e forestali. L'obiettivo dell'università è supportare gli agricoltori in una transizione verso sistemi più sostenibili utilizzando le trebbie che provengono dai microbi rifici locali per la produzione di mangimi ad alto valore proteico e ricchi in metaboliti secondari utili a migliorare l'aspetto quanti e qualitativo del latte di pecora.